Amici di Direttantissimo, buonasera. Siamo qui in compagnia di Andrea Ortisi, capitano della CDM Futsal Genova. Andrea, partiamo dalla partita di sabato. Una sconfitta dura da digerire, sicuramente una sconfitta in cui ci sono stati forse un po' troppi errori individuali. Sì, esatto. È stato un problema di concentrazione e di errori individuali che purtroppo capitano, come sono capitati quasi tutti in quella partita. Però comunque abbiamo fatto un'ottima prestazione, eravamo sotto 2-0, l'abbiamo subito in due minuti in ripresa. Comunque dimostriamo sempre di giocarcela contro tutti, senza alla pari. Secondo me il dato che ha portato quella sconfitta contro l'Ale 84 è che questa squadra ormai è assodato alla mentalità da Serie A2. Ha abbandonato la mentalità da Serie B ma ha acquisito la mentalità da Serie A. Proprio come dicevi tu, è riuscita a recuperare la partita in due minuti, cosa che all'inizio del campionato non riusciva. Sì, ormai siamo una squadra assodata, compatta. Sappiamo come giochiamo. Ormai prepariamo tutte le partite come se fosse l'ultima, come se fosse una guerra. Quindi scendiamo in campo uniti e compatti. Sappiamo le difficoltà che ci sono in Serie A2, sappiamo le difficoltà che stiamo affrontando in questo momento con Leandrinho infortunato nuovamente, Luan infortunato, Foti purtroppo squalificato, quindi siamo contati. Però ci battiamo sempre in ogni partita perché comunque facciamo il conto che Leandrinho manca dalla terza partita fondamentalmente, Luan dalla quarta, quindi siamo sempre in pochi. Senti, forse proprio la mentalità, questa squadra di fronte alle difficoltà, lo diceva anche il mister Lombardi in settimana, di fronte alle difficoltà, nelle situazioni di emergenza, nelle situazioni critiche, tira fuori la prestazione che non ti aspetti. È già successo, l'avete dimostrata tante volte. Speriamo che succederà anche sabato. Sì, siamo un gruppo di ragazzi veramente che diamo il 100% sia in allenamento che in partita. Se gli altri devono batterci è perché sono più forti loro. Quindi speriamo che sabato tiriamo fuori. Non diciamo niente, dai, scaramatici, non diciamo niente. Senti, invece arriviamo alla partita del sabato. L'avversario è un avversario difficile, un avversario che occupa dall'inizio del campionato, la testa della classifica. Ci sarà bisogno di fare una prestazione senza sbavature e senza errori. Sì, anche loro sono una squadra compatta. Tanti anni che giocano insieme, lo stanno dimostrando. Si trovano comunque lì sopra. Sabato affronteranno anche loro una partita per rimanere agganciati al treno playoff e altrettanto dobbiamo fare noi, sperando di distaccarci un po' dalla zona retrocessione. Anche perché magari in questo modo si passerà anche una sosta natalizia più tranquilla e più serena. Andrea, ti ringrazio. Tanti in bocca al lupo e ci vediamo sabato. Intanto arriva anche... Allora, vieni qua, vieni qua, visto che fai tanto il simpatico. Vieni qua, vieni qua. Dicci te cosa, Andrea Lombardo, dici tu cosa aspettare dalla partita di sabato. Ma sicuramente faremo una grande prestazione e sicuramente raggetto anche il capitano. Chi è il capitano? Però siamo fiduciosi e entreremo in campo con la voglia giusta, la determinazione giusta per fare una grande partita e portare a casa il risultato. E allora facciamo un appello, vi aspettiamo ovviamente tutti qui al Palla Diamante, sabato pomeriggio alle ore 17, CDM Genova contro Futsal Villorba. Grazie ragazzi.